Un saluto a tutti, un ulteriore ringraziamento a Geopolitica Info per l'attenzione che avete voluto riservarmi e per questa opportunità che mi è stata offerta di illustrare il ruolo e l'articolazione dello strumento militare nel perseguimento degli obiettivi della comunità internazionale in Bosnia. Cercherò di rimanere entro il quarto d'ora che mi è stato assegnato in modo da lasciare tempo agli altri relatori e soprattutto alle domande e ai commenti della platea che mi auguro numerosi. È un argomento molto ampio quello che mi è stato assegnato, non di meno allo scopo di rimanere nel tempo assegnato mi limiterò a dare delle grandi pennellate, sottolineando solo quelli che sono a mio avviso gli aspetti più importanti di una discussione che potrebbe essere estremamente articolata e anche molto tecnica, se vogliamo. In realtà, come vedremo, la Bosnia rappresenta un capitolo importante, non solo per quanto riguarda l'impiego dello strumento militare nella risoluzione delle controversie, ma anche e soprattutto perché l'impiego in quel paese cambia non solo l'ingaggio dello strumento militare, ma anche e soprattutto la percezione del ruolo che può avere. E questo cambio di percezione viene imposto dalla pressione dell'opinione pubblica e non tanto dalla volontà o dall'interesse del livello politico. Questo è l'aspetto più importante. Con la Bosnia cambiano le cose. Ed è la prima volta che questo succede, sicuramente dalla fine della Guerra Freda e probabilmente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo impiego dello strumento militare con, diciamo, con finalità politiche dirette. In buona sostanza, se in Bosnia si parte con la nozione che lo strumento militare debba essere impiegato con tutta una serie di caveat che derivano dal contesto ONU, a loro avvolto a mediati da una guerra fredda che è appena finita, come sappiamo, l'evoluzione degli avvenimenti conduce tutti a comprendere che solo un impiego mirato nel rispetto di condizioni minime di autonomia può condurre al successo. Questo è l'aspetto fondamentale. Ciò non avviene per scelta, badate bene, o per scelta politica, ma semplicemente perché lo spettatore, l'uomo della strada, non ne può più dell'orribile strage che il telegiornale gli serve ben calda ogni sera, all'ora di cena. Questo è il problema fondamentale. Quindi si percepisce che qualcosa deve cambiare, che l'aver schierato puramente e semplicemente dei peacekeeper nell'ambito di un conflitto particolarmente sanguinoso non è sufficiente. In buona sostanza, dal semplice mantenimento della pace, che fino a quel momento aveva contraddistinto gli impegni dell'ONU, si passa all'imposizione e successivamente alla costruzione della pace, a quello che oggi si chiama peace building. È un radicale cambio di paradigma rispetto agli assunti della dottrina internazionale ed è un cambio di paradigma che segnerà, come sappiamo, tutti gli anni 90 e i primi anni 2000. Ma questo è solo un lato della medaglia. L'altro lato della medaglia, ben più importante, è che in Bosnia per la prima volta noi sperimentiamo soluzioni che oggi sono diventate la norma in materia di interventi internazionali e nel contempo tocchiamo anche con mano tutti i limiti dell'interventismo che ha ammantato di buoni sentimenti ma che incontra in genere grosse difficoltà da andare in fino in fondo se non è sostenuto dal pugno duro, se vogliamo, dello strumento militare. Alcuni esempi di quello che vado affermando. Ad esempio in Bosnia si fa realpolitik perché quella che viene fatta dalle potenze occidentali in Bosnia, Stati Uniti in primis, è assolutamente realpolitik ma lo si fa nel quadro di un'idea del mondo che è liberale, che non è realista. Questo lo dico a privilegio degli studiosi di relazioni internazionali. Nel contempo si agisce per interposta persona per non rischiare il consenso interno, utilizzando milizie di parte senza porsi particolari remore e accettando anche soluzioni di pulizia etnica o di separazione forzosa delle parti contendenti pur di separare le parti medesime e di arrivare a una conclusione del conflitto. Quindi se non è realpolitik questa non so che cosa sia. Ad esempio si usa il potere aereo in funzione dissuasiva o in funzione deterrente, come si dice utilizzando una pessima traduzione dell'inglese, in italiano si dice dissuasione e in funzione dissuasiva per la prima volta si usa il potere aereo e gli si annette nel contempo un'importanza a questo potere aereo che non corrisponde alla sua reale efficacia sul terreno, come dimostreranno interventi successivi. Si utilizza ad esempio uno strumento terrestre di superiorità addirittura schiacciante, si pensi soltanto alla prima divisione corazzata statunitense che entra in campo nella Bosnia settentrionale, che è uno strumento militare di una potenza esagerata per le condizioni locali, ma si utilizza questo strumento di schiacciante superiorità con la segreta speranza di non doverlo impiegare in realtà, come i fatti poi dimostreranno. E alla fine, e questo io credo che sia il trionfo della real politica occidentale in Bosnia, a fronte del fallimento della politica e del multilateralismo in particolare, nella ricerca di una soluzione a un conflitto che nel contempo storico, etnico e politico, si ricorre alla ricetta tradizionale dell'egemonia che viene applicata senza troppi problemi da parte dell'unica superpotenza rimasta sul pianeta per il tramite di un'alleanza militare che è la NATO. Tutto quello che io ho appena descritto, amici miei, è un déjà vu di tutto quello che noi abbiamo visto prima e di quello che vedremo dopo. E, da parte dell'ONU, il ripercorrere il fallimento totale dell'esperienza somra, che viene perpetuato in grande scala, nel contempo è l'intervento nel Kosovo del 2000 e l'Iraq del 99-2000, intendo, e l'Iraq del 2003 e la Libia del 2011, sono l'Iraq e la Siria del 2014. Quindi, come vedete... Il generale si è mutato. Chiedo scusa, ho schiacciato qualcosa che non avrei dovuto, accidenti alle paperacce luride. Quindi, in sostanza, la Bosnia costituisce l'antipasto, l'aperitivo di un qualcosa che è in divenire, che è l'interventismo internazionale con determinate caratteristiche, che sono quelle che vi ho appena illustrato. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda la forza di pace dell'ONU, in particolare, la vicenda bosniaca, propriamente detta, inizia nell'estate del 92, quando un proforche, già schierata in Croazia, viene estesa alla Bosnia. Nel contempo, e qui è l'origine del problema, avviene un sistematico incremento di compiti, quello che in gergo si chiama un mission creep, che allarga gli obiettivi di questa forza ONU, dal semplice supporto all'assistenza umanitaria, alla protezione dei convogli, alla protezione delle installazioni e anche alla protezione delle persone. Viene anche imposta una new flight zone sulla Bosnia e viene messo in atto anche un embargo sul Danubio e in patriatico, questo con il supporto dell'Unione Europea e della Nato. Tutto ciò non aiuta la missione, assolutamente. All'aumentato interesse internazionale per questa situazione drammatica della ex Yugoslavia non corrisponde a un aumento delle risorse a disposizione dei comandanti locali, né tantomeno un aumento della libertà di manovra, che è più che mai limitata alla famosa trinità dell'ONU. Trinità dell'ONU, che vi ricordo, si basa sul consenso delle parti in lotta, sull'imparzialità dell'intervento e sull'uso della forza limitato all'autodifesa. In più, dal punto di vista interno della forza ONU, manca il consenso sulle priorità da dare ai compiti, vi è un'avversione fisica per le perdite da parte delle nazioni contributrici di forze e soprattutto, e questo è l'aspetto più difficile, il mandato assegnato dal Consiglio di Sicurezza non si tocca e quindi non lo si può adattare alle situazioni locali. Arriviamo al punto che nel marzo del 93 il comandante francese della forza, il generale francese Morillon, viene addirittura preso in ostaggio dagli abitanti di Sebrenizza, inviperiti, perché pretendono che i peacekeepers dell'ONU li proteggano dalle minacce dei serbi. Morillon, preso in ostaggio, ripeto, dagli abitanti di Sebrenizza, motu proprio dichiara, Sebrenizza, safe zone, zona sicura e in giugno seguono le altre zone sicure dichiarate ufficialmente dall'ONU, ma l'ONU si fa carico in realtà di una missione impossibile per la quale non ha né le forze né tantomeno esistono i presupposti giuridici per questa protezione, perché eventualmente lo possiamo stabilire ulteriormente, ma di fatto non esistono i presupposti giuridici. In più, e questo è un problema estremamente serio, l'impiego delle forze sul terreno, esiste una forte divisione a livello di nazioni in ordine agli obiettivi della missione, in sostanza inglesi, francesi, eccetera, non vanno d'accordo su quelli che sono gli obiettivi della missione, esiste una forte divisione a livello di comandi, esiste una mancanza di informazioni perché le forze ONU non ricevono dalle nazioni le informazioni di cui dovrebbero disporre per poter condurre le operazioni decentemente, e in più vi sono regole di ingaggio che, come sappiamo, sono assolutamente inappropriate e che compromettono completamente l'efficacia della presenza dei Pischi. In buona sostanza, tanto per darvi un'idea della situazione sul terreno, tra l'aprile del 92 e il maggio del 94 vengono negoziati non meno di 77 armistizi tra le parti, tutti quanti violati a stretto giro di posta. Questo vi dà un'idea della situazione in cui si trovano ad operare le forze ONU. Forze ONU che, peraltro, sono assolutamente insufficienti al compito, perché dei 34.000 peacekeepers ritenuti necessari e richiesti dal Dipartimento apposito dell'ONU ne vengono schierati solo 7.000. Contemporaneamente il famoso embargo sulle armi in Adriatico e sul Danungo viene sistematicamente violato da tutte le parti. Quello che è drammatico è il fatto che, oltre alle difficoltà sul terreno, nel bienio tra il 92 e il 93, come sappiamo, falliscono anche tutti i tentativi negoziali. I vari piani, il piano Carrington, il piano Vance Owen, il piano Owen Stoltenberg, vengono di volta in volta rifiutati, cassati dalle parti in conflitto che semplicemente non vogliono mettersi d'accordo. Qualcosa comincia a cambiare ai primi del 94, ma è un primo barlume e comunque non conduce da nessuna parte. Ai primi del 94, dopo la strage del colpo di mortaio al mercato di Sarajevo e sotto la pressione dell'opinione pubblica occidentale, la Nato finalmente decide di intervenire in modo leggermente più deciso con il proprio potenziale aereo, sia nei dintorni di Sarajevo, sia altrove in difesa delle famose safe zone, ma non di meno la situazione rimane difficilissima. Il 95, l'anno successivo, è ancora peggio. Inizialmente, ai primi del 95, 400 peacekeepers dell'ONU vengono presi in ostaggio dai serbi e vengono incatenati agli obiettivi per impedire azioni di ritorsione della Nato nei dittori di Sarajevo e con questo si raggiunge praticamente il collasso psicologico delle operazioni dell'ONU, nel momento in cui i serbi mostrano al mondo questi peacekeepers incatenati ai ponti. Successivamente, come sappiamo, sempre nel 95, vengono attaccate nell'enclave bosnia che in territorio serbo. È il caso di dire, purtroppo, che da un lato il rappresentante speciale del segretario generale, Akashi, non fa nulla per impedire le tragedie di Sebrenica e Zepa. Non fa nulla. Dall'altro, rifiuta addirittura l'aiuto offerto dalla Nato, mettendo i peacekeepers olandesi nel caso di Sebrenica e ucrania nel caso di Zepa in una posizione assolutamente impossibile. E sappiamo quali saranno le conseguenze di questa posizione impossibile. Contemporaneamente, Michael Rose, che è il comandante britannico di un profora all'epoca, a sua volta, rifiuta l'aiuto alleato nei confronti di Sarajevo, rifiuta gli attacchi aerei che la Nato gli offre per alleggerire la situazione di Sarajevo perché, a suo dire, esulano dal mandato conferito. E qui è interessante il libro di Rose, lo consiglio a chi è interessato all'argomento, c'è un libro che Rose ha scritto sulla sua missione in Bosnia che dà un'idea di questo dilemma terribile tra la necessità di assolvere al mandato e l'uso della forza. Nel frattempo, però, e siamo, come ho detto, nel 95 ormai sono successe cose terribili, è successo soprattutto il massacro di Sebrenica, sulla spinta in particolare degli Stati Uniti e dell'opinione pubblica statunitense e anche sulla spinta dell'amministrazione democratica degli Stati Uniti e della presidenza Clinton, la comunità internazionale riflette sulla situazione e giunge a due conclusioni fondamentali. La prima conclusione è che se non si riduce l'estensione della dominazione serba e la potenza dell'egemonia serba entro confini ragionevoli e soprattutto unitari, non si arriverà mai a una soluzione. In sostanza, i serbi devono essere ristretti entro i loro confini, entro i confini di un'entità territoriale tutta loro. La seconda conclusione è che è necessario imporre di conseguenza alla Serbia una soluzione militare, ma purtroppo nessuno è disposto a farlo, quindi bisogna trovare qualcun altro che lo faccia. Queste sono le due conclusioni a cui si arriva nel 95. La prima, che la Serbia deve essere contenuta e lo si può fare solo militarmente. Secondo, che nessuno è disposto a contenerla militarmente e che quindi lo deve fare qualcun altro. E chi è questo qualcun altro? Questo qualcun altro sono i croati che vengono messi dagli Stati Uniti in condizione di attaccare in serbi in modo da ridurre in modo significativo sia il loro potenziale militare, sia l'estensione territoriale che controllano. Come sappiamo si inizia con la craina, quindi con la parte occidentale del paese, dapprima con un'operazione che viene denominata lampo e successivamente con un'altra operazione che viene denominata tempesta. E questa è una prima assoluta del modo col quale verranno condotti successivamente gli interventi internazionali. Si può fare la guerra senza sporcarsi direttamente le mani. E' il primo esempio di war by proxy, come si definisce oggi, condotto dall'Occidente. Quindi quello che è successo successivamente in altri contesti, in altri teatri, non è nulla di nuovo. Già in Bosnia gli statunitensi conducono una guerra per procura, war by proxy, una guerra per procura. In questo caso sono i croati che forniscono la mano d'opera per fare il lavoro che l'Occidente non è disposto a fare. Tempesta, in particolare la seconda offensiva croata, apre la strada ad altre iniziative congiunte, sia di croati e musulmani in craina, sia della NATO intorno a Sarajevo, che di fatto mettono in rotta i serbi e riducono significativamente la proporzione di territorio da loro controllata. La riducono in realtà a quel 51 a 49 al quale accennava Alessandro Savini, che la diplomazia internazionale ritiene indispensabile che il gruppo di contatto internazionale, che nel frattempo ha assunto la guida delle trattative, ritiene indispensabile per giungere a una composizione del conflitto. Dall'altro lato, l'offensiva aerea della NATO, l'operazione del Liberate Force, che viene svolta proprio per indebolire significativamente il potenziale militare serbo e viene svolta su iniziativa statunitense con un apporto determinante di assetti aerei statunitensi, debilita in modo significativo il potenziale terrestre dei serbi e di fatto apre la strada a una soluzione negoziale. Tutto questo senza impegnare le forze occidentali sul terreno e soprattutto senza impegnare le forze statunitensi in un anno che è un anno di competizione elettorale, alla quale la presidenza Clinton è particolarmente sensibile. Seconda prima assoluta quindi, dopo la prima assoluta della guerra per procura, la seconda prima assoluta è che il potere aereo appare determinante, appare chirurgico, appare assolutamente letale e soprattutto l'utilizzo del potere aereo permette di non sporcarsi le mani sul terreno. E questa è la seconda conseguenza diretta dell'intervento in Bosnia. Terza prima assoluta, la costruzione del consenso attorno all'intervento. L'intervento è sicuramente un affare rischioso, ma l'uso del potere militare e l'assoluta supremazia militare dell'Occidente, che è innanzitutto tecnologica, ne riducono evidentemente il rischio agli occhi dell'opinione pubblica. La pervasività e la primazia assoluta dei media in Occidente giustificano l'intervento e sostengono l'azione militare prima ancora di quella politica, cioè bisogna fare qualcosa, utilizziamo lo strumento militare perché è giusto e questo viene addirittura prima dell'iniziativa politica. L'intervento in sostanza viene giustificato da una campagna mediatica che è senza precedenti, se vogliamo, in Occidente e che costituisce l'antipasto di quello che sarà lo scatenamento tra virgolette dei media occidentali per la questione kossovara quattro anni più tardi. E di conseguenza l'opinione pubblica è d'accordo. Quindi l'operazione, questa è la terza primizia tra virgolette della Bosnia, questo intervento internazionale che è la prima forma, se vogliamo, di intervento umanitario, chiamiamolo così, avviene in un'aura generale di consenso, nel consenso generalizzato dell'opinione pubblica. E sulla base dei risultati del ridimensionamento serbo, come sappiamo, gli Stati Uniti lanciano una grande iniziativa negoziale che, come ci ha spiegato Alessandro Savini, culminerà negli accordi di Dayton poi replicati. Dayton, tuttavia, non starebbe in piedi se non fosse sostenuta da un'operazione militare. L'operazione militare della NATO denominata Joint Endeavor, che vede lo schieramento di una forza NATO, l'IFOR, Implementation Force, che è composta da cinquantasettemila uomini, non pochi, non due, cinquantasettemila, di cui ben ventimila americani, che agisce con le forze di interposizione tra le parti in conflitto, tra le parti già in conflitto, che nel frattempo hanno raggiunto un accordo. Quindi in sostanza agisce da garante del rispetto dei termini dell'accordo. Secondo Leighton Smith, l'amiraglio Leighton Smith americano, all'epoca comandante alleato per il sud Europa a Napoli, il mandato è molto semplice. È assicurare l'assenza di guerra e nel contempo dare una possibilità alla pace. È un mandato molto limitato, evidentemente, ma nel contempo è un mandato estremamente efficace. E di fatti avrà successo. Il successo di Dayton, prima ancora che sul piano politico, è assicurato sul piano militare dalla presenza di questa forza di interposizione che fa sì che le parti non vengano più in contatto e contemporaneamente rispettino quelle che sono le obbligazioni, le obbligazioni pattizie. AIFOR, dal punto di vista militare, rappresenta un'assoluta svolta e un'assoluta primizia. Per la prima volta la Nato si allontana dall'articolo 5 per assumere compiti di stabilità internazionale entro i termini dell'articolo 53 dello Statuto della Carta dell'ONU, quindi come organizzazione regionale con mandato delle Nazioni Unite. E questo lo fa la Nato per il semplice motivo che con la fine della guerra fredda si è dovuta in qualche modo reinventare un ruolo. Il principio della difesa collettiva è messo non in discussione, ma comunque rappresenta un interrogativo e nelle parole di un senatore americano, in pratica la scelta di intervenire per la pace e la stabilità internazionale è quasi obbligata. Si parla appunto di out of area o out of business all'epoca. O la Nato o agisce fuori area o perde in qualche modo la sua ragione d'essere. E per farlo, per permettere alla Nato che fino a quel momento ha avuto un'organizzazione sostanzialmente statica, difensiva delle frontiere dell'alleanza, ci si inventa il nuovo concetto di impiego delle forze, che è il concetto della CJTF, della Combined Joint Task Force, cioè della task force pluri-arma e interforze in grado di intervenire in proiezione di potenza al di fuori dei confini naturali dell'alleanza. Ma non è l'unica primizia questa della CJTF impegnata in compiti di stabilità internazionale, vi è un'altra primizia che è il ritorno della Francia sotto comando dell'alleanza atlantica. Per la prima volta la Francia accetta di mettere le proprie forze di nuovo sotto il comando tattico dell'alleanza atlantica dopo il grande strappo operato da De Gaulle negli anni 60. E in più, e vi è un'altra primizia ancora, ad ogni alleato della Nato, alla Francia, alla Germania, alla Spagna, all'Italia, vengono assegnate dei settori di responsabilità e vengono assegnate dei compiti ben precisi dove, diciamo, in autonomia operativa e in qualche modo in autonomia decisionale, deve condurre in porto l'assolvimento del mandato assegnato. Quindi vi è una serie di primizie. Di fatto vi è un radicale cambio di paradigmi che conduce direttamente all'operazione multinazionale successiva, alla revisione radicale degli impegni militari all'estero e alla revisione radicale del modo di vedere la Nato, che conduce alla specializzazione dei compiti anche nell'ambito delle alleanze e conduce in buona sostanza tutto ciò che contraddistingue i moderni interventi internazionali. E con questo qui mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, grazie mille generale. Intervento ricco di spunti interessanti che sicuramente verranno approfonditi più tardi nel Q&A. Adesso direi di passare a Stefano Lioi, che ci parlerà un po' di come cambia l'uso della forza dalle operazioni delle Nazioni Unite a quelle della Nato, con un focus particolare delle due organizzazioni nel processo di nation building. Prego Stefano. Grazie Alessandro, buonasera a tutti. Ma io nel mio intervento sarò veramente velocissimo anche perché il generale ha illustrato con dovizia di particolari il contesto storico ma anche operativo in cui hanno operato sia le Nazioni Unite ma anche la Nato, poi chiaramente in tempi più recenti l'Unione Europea. Mi concentrei soprattutto su due punti che ritengo particolarmente interessanti. Il primo è chiaramente, come diceva il generale Pocanzi, nel 92 le Nazioni Unite con la risoluzione 743 entravano nella crisi bosniaca con un'operazione che possiamo definire come un'operazione di peacekeeping pur, autorizzata ex capitolo 6 della Carta delle Nazioni Unite, che come da mandato si proponeva di intervenire con una soluzione pacifica della crisi bosniaca e soprattutto che prevedeva un limitato uso della forza, un uso della forza chiaramente ristretto all'istituto giuridico della legittima difesa e quindi possiamo dire appunto, come veniva detto Pocanzi, un'operazione di peacekeeping secondo i tre pilastri classici di quello che viene, possiamo definire come una prima generazione di peacekeeping. Ben presto però, come ha illustrato perfettamente il generale, le Nazioni Unite si sono accorte che in un contesto tanto delicato come era quello della crisi bosniaca e quindi anche in cui era necessario creare delle zone, delle cosiddette UMPAS, le United Nations Protected Areas, era necessario un salto di qualità, quindi un progressivo utilizzo maggiore dello strumento militare anche per proteggere quei siti, e penso per esempio all'aeroporto di Sarajevo, che erano snodi cruciali anche per la distribuzione di aiuti umanitari e pertanto richiedevano lo strumento militare a protezione di attori quali per esempio la Croce Rossa o lo stesso commissariatore delle Nazioni Unite per i rifugiati. Nel 95, vado molto molto velocemente, chiaramente a parer mio c'è quello che può essere considerato un vero e proprio turning point con l'eccidio nell'enclave di Sebrenica, e con tutte le conseguenze sia dal punto di vista giuridico per quanto riguarda la compagine olandese, ma in generale per l'operato del palazzo di vetro, le Nazioni Unite insomma capivano che in quel modo, in un contesto tanto delicato, non si poteva agire in maniera risoluta. Ecco allora che attraverso le due operazioni poi della sottoleggi da Nato, l'implementation force e la stabilization force, autorizzate queste sì ex capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, quindi due operazioni che andavano ad agire non soltanto per garantire il rispetto delle condizioni di pace, ma come citava lo stesso mandato to enforce the peace, cioè quindi agire attraverso muscolarmente per garantire innanzitutto un controllo dell'area operativa, ma anche per garantire quelle operazioni di security sector reform che includevano anche processi delicatissimi, quali per esempio lo DDR degli ex combattenti che richiedevano quindi un grado di sicurezza dell'ambiente operativo veramente veramente elevato. In questo senso quindi possiamo dire che sia l'implementation force sia la stabilization force agivano in maniera risoluta per porre veramente una soluzione di lungo termine per quella che era una crisi che stava assumendo dei contorni veramente importanti. Quindi io credo che in un primo punto sia interessante comprendere a questo proposito c'è anche un contributo molto interessante da parte del colonnello Nikos che ha dei tempi agiva, un colonnello statunitense che agiva tra le file della Nato e che porta proprio quell'esempio di queste due emissioni come tesi volta a dimostrare che in alcuni contesti, e questo era uno di quelli, cioè quindi contesti caratterizzati da un elevato tasso di violenza conflittuale, l'uso della forza come strumento deterrente possa essere veramente una chiave di volta per la risoluzione di crisi internazionali. Quindi questo è il primo punto che io ritengo veramente interessante da approfondire per comprendere e poi chiaramente giudicare l'operato vuoi delle Nazioni Unite, vuoi della Nato nel contesto bosniaco. Secondo elemento secondo me molto importante, e qui torniamo alle due missioni, la UNPROFOR e anche la UNMIB, quindi la missione delle Nazioni Unite in Bosnia e Zegovina, è quello di una cooperazione pur non priva di evidenti criticità, che però si è avuta tra Nato e Nazioni Unite in quello che è il processo di nation building del paese. In questo senso io ritengo molto importante all'interno di quel processo di security sector reform la formazione e l'addestramento delle forze di polizia e delle forze di sicurezza locali che avveniva non soltanto da un punto di vista pratico e quindi con vere e proprie attività di training, ma anche attraverso un percorso formativo in tutto quello che era la guida per il rispetto delle principali norme di diritto internazionale umanitario, di rispetto dei diritti umani, che era fondamentale per forze di polizia che erano fortemente divise anche al loro interno in fazioni etniche contrapposte. È importante anche la grande collaborazione con il Tribunale Penale Internazionale per l'Ex Jugoslavia che pur con non pochi problemi comunque ha garantito almeno in parte di perseguire coloro i quali si erano resi colpevoli di atroci crimini contro l'umanità e in palese contrasto alle convenzioni di Ginevra. Ultima annotazione veramente anche perché poi credo che il Donnello parlerà in maniera molto più precisa e molto più approfondita di me. Credo che sia importante riconoscere, in generale ne parlava in apertura, il ruolo della Multinational Specialized Unit e quindi questa unità di forze, possiamo chiamarle ibride, cioè operatori che veramente contraddistinti da una grande duttilità per il loro addestramento sia militare ma anche per il controllo dell'ordine pubblico, quindi con funzioni di polizia, che è nata appunto su impulso del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, su richiesta del Supreme Allied Commander in Europe della Nato e che è stato un esperimento talmente riuscito che poi la Nato se ne è come sotto gli occhi di tutto e se ne è servita anche in altri contesti operativi quali per esempio il Kosovo, l'Albania o l'Iraq. Io qui mi taccerei e lascerei... Grazie Stefano, grazie mille per il tuo contributo. Io passerei direttamente al colonnello De Magistris che credo che quanto detto da Stefano calzi un po' a pennello con quella che è la sua esperienza. Quindi io le chiederei magari brevemente di spiegarci un po' l'attività del centro di eccellenza che dirige e poi di addentrarsi anche più specificatamente nel ruolo cruciale che hanno ricoperto le MS1 e il conflitto bosnievo e ovviamente non solo. Grazie. Perfetto, grazie, buonasera. Straight to the point. Centro di eccellenza Netto Stability Policing Center of Excellence. Cinque anni di vita ad oggi, accreditato dalla Nato, quindi lavoriamo sotto EG a Nato. Facciamo sviluppo concettuale, sviluppo della dottrina, attività destrativa residenziale e learning e online ovviamente per il Covid attualmente. Partecipiamo alle esercitazioni, infatti mi vedete con questa tutta la, noi chiamiamolo da combattimento o da ordine pubblico proprio perché sono a Napoli per svolgere un'attività esercitativa della Nato. Nonché sviluppiamo il ciclo delle lezioni apprese per tutte le attività concernenti lo stability policing che vengono svolte dall'Alleanza, ma io dico anche oltre alleanza perché abbiamo partnership molto, una partnership molto ampia sia nel mondo accademico sia nel mondo con le altre organizzazioni internazionali. Cos'è lo stability policing? La definizione concertata con la Nato è un set, una raccolta di attività di polizia che hanno scopo di garantire il rispetto del diritto umanitario, quindi dei diritti umani, la protezione dei diritti civili, il rule law, lo stato di diritto, l'imposizione della legge. Non è una cosa che però fanno solo i carabinieri, le real politiche, le general meditative forces, ma noi ne facciamo quasi un banto, lo stability policing è un club aperto nella loro attività, proprio perché il tipo di attività che ne facciamo sono funzionali all'implementazione, all'imposizione della legge, l'imposizione del rule of law e pertanto alcune capacità sono espresse anche dalle forze militari di qualsiasi genere, anche dai Marins o dal nostro San Marco che può fare attività di pattugliamento di un lago o di un fiume navigabile, ovvero da forze pure dell'esercito che possono fare attività specifiche di ordine pubblico. Spero di avervi dato un po' il senso di quello che è il centro di eccellenza, su Google con un click ovviamente abbiamo anche il sito che da gennaio sarà quello nuovo, spero che vi possa dare qualche informazione in più, altrimenti sono disponibili anche a un incontro dedicato proprio allo stability policing e in che direzione sta andando nella Nato, perché a distanza di 22 anni, dallo schieramento della prima MSU, la Nato non si è ancora dotato di un concetto strategico sulla MSU. Questo però è un'altra storia che magari descriverò alla fine perché anche qui c'è la politica di mezzo e l'Italia che in questo ha la primazia però si vede osteggiata da altre nazioni, soprattutto quelle dell'ex patto di Varsavia, dai paesi scandinavi che vedono quasi una limitazione delle loro forze, delle loro capacità attraverso questo strumento. La concessione alla Francia, generalmente i type forces, non più carabinieri, i like forces è proprio questa, per averla con noi a un board e ci sta supportando su vari tavoli. Andiamo dritti, Taiton Agreement, 25 anni fa, di fatto non sono stati implementati immediatamente, ci sono stati strupi, ci sono stati altri eccidi, ci sono state tantissime altre violenze e i peacekeeper erano più che altro observers di queste tragedie, perché avevano in parte anche le mani legate, ben detto già. E allora poi arrivano gli accordi di Bonn nel 97, dicembre 97, viene creato il peace implementation council con un ambasciatore americano che ha una delega molto ampia, perché make things happen, cioè erano la comunità internazionale, grazie anche però a questa pressione dei media dell'opinione pubblica, spinge tantissimo e viene nominato anche un nuovo sacchere, il Supreme Command Europe, quindi il comandante supremo di tutte le forze in Europa, il generale Clark, che previene la previsione dell'ONU, che nel 2000 poi dirà c'è un gap capacitivo, con il Brahimi Report, chi è Brahimi? Era l'inviato speciale dell'ONU in Bosnia, che capisce forse un po' in ritardo che bisognava riempire un vuoto capacitivo che noi definiamo Security Gap, che è quel vuoto che si viene a creare quando, da una parte, se abbiamo una forza militare troppo forte, ovvero la Stabilization Force, è una forza che schiera appunto una brigata corazzata, una divisione corazzata, con cui non possiamo di certo inseguire il ladro di polli con il carro armato, giusto? E dall'altra parte abbiamo l'IPTF, International Police Task Force dell'ONU, per favore, inutile per dire, c'erano addirittura poliziotti di alcuni paesi che noi definiamo ora, in termini molto politicamente corretti, in via di sviluppo, che facevano servizio con le DAG, perché la loro uniforme prevede quello. Visto che erano molto ben retribuiti, venivano schierati generali, che non parlavano né l'inglese né ovviamente il dialetto locale, e venivano schierati lì, che pur visto che non sapevano fare niente, neanche guidare la macchina, facevano i piantoni, però venivano ben retribuiti. Immaginate come potessero fare l'attività di monitoring, mentoring, advising, che è l'attività tipica di capacity building. Poi se chiudi il sector reformale, all'epoca non si parlava di quello, se mi consente, dottor Loi, perché lei giustamente l'ha definito, è chiave poi per assicurare pace di lunga durata e anche sviluppo, ma all'epoca NATO e non si parlavano come si parla adesso. L'Unione Europea era un fuscello, non aveva nessun peso. E la cosa più triste, ovviamente perché intanto moriva la gente, era che nessuno si occupava di quel voto capacitivo di cui vi parlavo, perché oltre ad essere un voto capacitivo delle forze di sicurezza, specificamente forze di polizia locali o forze di polizia che ha un mandato, che ha un mandato nazionale e l'esercito, ma è anche un voto capacitivo che non riesce a soddisfare i bisogni della popolazione locale. E allora ecco che General Clark ha questa intuizione, la Maltinessian Specialized Unit, intuizione che l'arma di Gravier sposa subito e che tramite appunto l'ora colnello Coppola, che poi è diventato vicecomandante generale, poi è diventato anche rappresentante ONU e scusate Unione Europea in Bosnia, poi è stato anche a capo delle UPCCC, CCP dell'Unione Europea fino a marzo scorso. Siamo riusciti a schierare un reggimento, adesso non entro nei tecnicismi, ma quindi unità di circa 600 uomini a Sarajevo, che però poi crea degli staccamenti anche in altre località della Bosnia, con due capacità principali, perché poi il mandato all'epoca era un mandato rinforzato dell'ONU, ma eravamo in un paese sovrano, quindi non potevamo imporre del rule of law, dovevamo assistere le forze di polizia. Da una parte svolge attività di crowd and ride control, che è l'ordine della sicurezza pubblica. E dall'altra attività di raccolta informazioni, di presenza, quindi tecnicamente scusate gli inglesismi, ma vengono anche più naturali, presence patrol, quindi show the flag, andare a far vedere che si è presenti, e di assistenza alla polizia locale, ma di fatto facevamo noi. E questo ci ha permesso di affrontare il movimento croato, mettiamo così, perché dopo quello che ha detto bene il generale Pozzelli, dopo l'indebolimento dei serbi, la Croazia cresce e vuole annettersi quel 51% nella Croazia, nel paese della Croazia stessa. E quindi qual è il grosso problema? Che ci sono i cosiddetti criminalized power structures. L'errore che fanno gli americani in Sicilia, quando mi vado a Sicilia, e poi gli dare il potere ai mafiosi che gli danno tutte le dritte per dove sbarcare, dove non ci sono le truppe, perché lo sbarco in Sicilia sapete è stato quasi senza colpo ferire. Come l'hanno fatto? La mafia è un dato di fatto, non è che lo stiamo scoprendo oggi. Stesso discorso, noi, l'alleanza, la Comitazione Internazionale, si appoggia troppo ai poteri locali, non solo, lì consente di fare un po' i fattacci loro purtroppo, e quindi continuano gli stupri etnici, e iniziano, trattano troppo il problema come una guerra strettamente etnica. Questi si odiano da sempre, è come se dicessimo, no, i senesi, i pisani, si odiano sempre e facciamogli ammazzare. Non vanno a pensare invece dietro tutti gli interessi economici. Quando si arriva a due grosse operazioni contro questo third movement croato, serbo-bosniaco-croato, si arriva un'operazione che si tende, adesso non ricordo bene il nome, perdonatemi, che è volta ad arrestare dei personaggi politici che poi scappano tutti in Croazia. Erano nove persone, che poi entrano anche loro nella lista di quelli da arrestare, che poi pian piano la Comitazione Internazionale è riuscita ad arrestare anche le autorità locali quando ci sono affrancate, che erano coloro i quali erano dietro il movimento croato, ma di fatto stavano spingendo affinché i servizi segreti croati e bosniaci facessero attività di sfioraggio nei confronti della Comitazione Internazionale, NATO, ONU, chi che sia. E dall'altro invece c'è stata un'intuizione che qua in parte devo anche accreditare a chi mi ha preceduto lì, l'intuizione di fare follow the money. Il metodo Falcone non funziona solamente con la mafia, il metodo Falcone funziona anche con il criminalized power structure, perché il grosso problema è, e la Comitazione Internazionale lo fa spesso purtroppo, mettiamo i boots on the ground, non facciamo un assessment di quelli che sono gli spoiler, di quelli che vanno a geopartizzare il processo di pace, interveniamo e facciamo solo attività cinetica, sconfiggiamo il nemico, ma ci sono anche le military operations other than war, quindi sono quelle attività che si fanno con finalità spettamente di polizia, ovvero dobbiamo andare a disrap, a scardinare le organizzazioni criminali, ma il cararmato, il pilota del cararmato, l'uomo in torretta, il secondo mitragliere radiofonista, quello che sta con, il dead man si dice, quello che sta in torretta e viene ammazzato purtroppo spesso dai cecchini, non si accorge di quello che succede per strada. In tutto questo poi l'alleanza, i soldati andavano purtroppo prostitute, e facciamo anche loro errori, e contribuivano a perdere quella battle of narrative, che ben ha detto anche il dottor Loi, anche lei il dottor Sardini infatti ha accenato, avete quando avete iniziato a parlare, avete accenato al problema dei mass media, ma se noi perdiamo, abbiamo magari il supporto di mass media a casa nostra, ma poi quando mettiamo i nostri buzz on the ground, perdiamo la battle of narrative perché ci comportiamo da invasori invece che da soccoritori, da saviors, da salvatore, la perdiamo a partire questa battaglia della narrative, della cosiddetta battle of narrative, che non ci fa andare a nessuna parte purtroppo, e ci troviamo nella selezione in cui siamo in Afghanistan, ma non voglio perdere tempo anche perché mi rimangono quattro minuti e mezzo, e quindi li voglio usare tutti. Quindi abbiamo questo strumento che riesce a riempire il vuoto capacitivo, nonostante un mandato delle Nazioni Unite, comunque non molto chiaro, cosa invece in corso l'abbiamo avuto pieno, perché era una delle due uniche al mondo, self-exciting mandate, quindi si poteva fare attività di polizia, e riusciamo con uno strumento militare, ma con skills di polizia, perché militare? Perché le forze di gendarmeria, tipo i carabinieri, hanno addestramento militare, status militare, equipaggiamento militare, qualsiasi armamento militare, è importante perché noi usiamo un calibro nelle nostre armi che è usato in tutta la Nato, quindi c'è la massima standardizzazione, e siamo interoperabili. All'epoca la Nato non aveva tutte quelle capacità che ha adesso, faceva le sue esercitazioni, ma era abituata a pensare al partito arancione, a quelli che dovevano invaderci il Friuli Venezia Giulia. Cade il muro di Berlino 89, la Nato non cambia subito atteggiamento, tant'è come diceva il generale, ci ha messo tempo a capire quello che succedeva, abbiamo dovuto vedere tanto troppo spargimento di sangue a partire da se breve. Quindi con questa intuizione si ha uno strumento che fa attività di polizia in paese destabilizzato. Cadono le bombe, i carabinieri, semplifichiamolo per orgoglio nazionale, ci possono stare, perché abbiamo l'addestramento, abbiamo le armi, abbiamo gli equipaggiamenti, possiamo parlare in radio, abbiamo lo stesso alfabeto fonetico, ci parliamo con lo stesso alfabeto fonetico. E concludo, visto che mi mancano due minuti, se ho fatto bene i conti, se il mio cronometro dovrebbe essere giusto. Pertanto, noi chiudiamo, chiedo scusa, pertanto, questo passaggio dalla guerra fredda alle crisis response operation avviene in maniera quasi traumatica per la Nato, ma che trova uno strumento che riesce a riempire un vuoto capacitivo unico, che purtroppo, troppo spesso viene misconosciuto. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è un assessment fatto bene all'inizio. Cioè, prima di smettere i boots on the ground, dobbiamo capire che bisogna vedere qual è la situazione sul terreno. E dobbiamo individuare questi criminalized power structures, che vanno a geopartizzare, perché sono le cosiddette spoiler threats, vanno a geopartizzare la fine della nostra missione. E quindi, come si fa? Qualcuno si deve occupare, un dirty job si direbbe, Qualcuno si deve occupare dei ladri di pollo, perché il ladro di pollo è quello che ci fa vincere la battaglia della narrativa. Pertanto, in tutto questo scenario, stavo vedendo alcune note che ho preso mentre parlava chi mi ha proceduto, l'arma dei carabinieri, ovvero, la Martinesa Specialized Union, si è vista come uno strumento molto utile e molto versatile. Pensate, il primo intervento, schieriamo il 6 agosto del 98, il primo intervento serio ma critico, avviene il 1 ottobre del 98, sulla strada di Mostar, ma c'è un blocco stradale, i carabinieri vengono, erano quasi solo carabinieri all'epoca, vengono chiamati a intervenire, c'erano anche forze dell'esercito, ci sono stati i disordini, ci sono state le vittime, ovviamente la cosa si è riversata negativamente contro l'Alleanza. Ma perché? Perché chi è intervenuto per prima? erano forze dell'esercito, non aveva gli strumenti ma neanche il mindset utile, idoneo per poter affrontare una massa, una massa in rivolta, mentre chi fa ordine pubblico in maniera stabile lo sa fare, quindi facciamo fare a ognuno il proprio lavoro. Vi faccio un esempio, Ponte di Mitrovizia in Kosovo, e qui chiudo, su Ponte di Mitrovizia in Kosovo, qualche anno dopo, ci sono state moltissime manifestazioni, scontri, morti, e la qualunque. La Nato non riusciva a risolvere, i nostri cugini francesi hanno fatto più interventi, interventi molto pesanti, che si sono risolti solamente ai spargimenti di sangue, tanti feriti e spesso morti. Viene chiamata la MSU, e nell'ora comandante del reggimento, riceve un mazzo di fiori, da una parte gli albanesi, dall'altra parte i serbi, i kosovari albanesi, i kosovari serbi. Il sistema di mediazione, questo è quello che ha portato al cambio di passo anche a Mitrovizia, dove comunque ci sono ancora tante tensioni. Quindi lo strumento militare, viene integrato da uno strumento di polizia, con police skills, che però è adatto, perché è interoperabile, a lavorare in un ambiente destabilizzato e quindi a parlare la stessa lingua dei militari. E qui concludo, sperando di aver spaccato il secondo. Credo di sì, perché il mio Garmin è preciso. È perfetto. Grazie mille davvero al colonello De Magistris. Sicuramente avremo dopo modo di approfondire più tardi nel Q&A. Bene. Adesso abbiamo trattato di tematiche rettamente militari, e adesso ci spostiamo in un ambito più, diciamo, politico-sociale, e per farlo andiamo direttamente da Elisa Brusca. Elisa, ci parlerà un po' di come sta andando lo sviluppo della Bosnia in termini proprio di processo di democratizzazione, a partire dalle disposizioni di Dayton e facendo soprattutto anche un focus con le relazioni con l'Unione Europea. Prego Elisa. Grazie Alessandro. Buonasera a tutti. Allora, con la firma degli accordi di Dayton fondamentalmente nasce la Repubblica Parlamentare Federale di Bosnia-Herzegovina, che è composta entro i confini già esistenti dalla Repubblica Serba e dalla Federazione di Bosnia-Herzegovina. Si tratta di due entità semi-autonome che possono trattenere relazioni parallele con i stati dimitrofi e hanno l'equivalente di un'assemblea e di un governo con poteri estensivi sebbene alcune aree siano di competenza del governo centrale di Sarajevo come la politica economica e monetaria. A livello centrale invece il potere esecutivo è nelle mani di un Consiglio dei Ministri che è nominato alla presidenza tripartita che rappresenta la frammentazione etnica del Paese e poi deve essere nominato e deve essere confermato dalla Camera dei Rappresentanti del Parlamento. Quindi notiamo che è un sistema creato su principi associativi che lascia spazio alla frammentazione etnica. Anche il processo decisionale è piuttosto aperto nel senso che è possibile apporre diversi veti sia dai membri della presidenza tripartita che dal Parlamento e questo lo rende un processo fondamentalmente prono ad impasse. I momenti di stallo che possono e si sono insomma verificati storicamente sono stati superati grazie all'ufficio dell'altro rappresentante che è espressione comunque della comunità internazionale presente in Bosnia nonostante la sua efficacia poi sia negli ultimi anni insomma diminuita. È un'espressione della comunità più prettamente europea e anche presente nella Corte Costituzionale bosniaca. Quindi vediamo uno Stato che comunque ha un livello di autonomia considerevole a livello grazie appunto alla configurazione federale. Però questa a volte cade e scade nella mancanza di unitarietà ed è prettamente apprezzabile ad esempio nella condizione delle forze di sicurezza. Le forze armate sono state unite solamente nel 2005 mentre la separazione delle forze di polizia permane appunto su base etnica e questo già ci dà un'idea delle prime contraddizioni insite nella Bosnia. Anche la Costituzione che dovrebbe essere la spina dorsale di un paese non rafforza la sua unità bosniaca perché viene percepita come imposta dalle potenze straniere e questo causa degli effetti distorsivi anche sulle tentate riforme. I tentativi di riforme sono stati esperiti principalmente nel 2006 quando ancora la Bosnia figurava tra le alte priorità sia dell'Unione Europea che degli Stati Uniti e poi nel 2009 quando la riforma è stata calde verso una presidenza unitaria e quindi un Parlamento più forte è stata caldeggiata anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ma di fatto questi cambiamenti non possono avvenire perché nonostante la Costituzione sia maltollerata cambiarla porterebbe a un cambiamento che non si sa dove giungerebbe e potenzialmente non si sa se si può gestire. A questo punto emerge anche la figura dell'attore regionale più importante ossia quella dell'Unione Europea. l'Unione Europea ha previsto gli studi come si è sempre detta abbastanza restia e ha valutato la performance bosniaca come insomma limitata o quasi nulla a livello di progresso nelle aree rilevanti per cui il processo si è arenato sostanzialmente nel novembre del 2019 e quando abbiamo questi risultati così insomma limitati solitamente si torna si ascrive la colpa la responsabilità a quanto previsto dagli accordi di Dayton che avrebbero chiuso una fase una fase fredda e quindi le proposte solitamente sono quello di aumentare l'autonomia etnica o esperire ulteriori mediazioni. In realtà queste potrebbero essere soluzioni parziali laddove in Bosnia adesso si registra un calo del livello di democrazia una flessione laddove proprio la condizionalità europea avrebbe dovuto fungere da da leva per guidare il processo appunto di democratizzazione del paese. In buona sostanza la condizionalità non ha fatto altro che aumentare il decoupling quindi il divario tra la la democrazia e il costituzionalismo liberale ha aggravato il problema della corruzione permettendo al network clientelari di entrare effettivamente nelle istituzioni dello Stato e quindi indebolire sia la competizione politica che l'accountability interna. Quindi si vede come affrontare il tema della Bosnia venticinque anni dopo ancora usando le categorie della frammentazione etnica è un po' riduttivo e questo dovrebbe essere superato anche perché continuare a affrontare il tema in questi termini permette ai leader nazionali di sfruttare ulteriormente la questione etnica per distogliere l'attenzione da questioni più urgenti nell'agenda quali la corruzione la criminalità organizzata ma anche la disoccupazione per far fronte a queste nuove minacce si caldeggia si propone una riforma del settore giudiziario una maggiore indipendenza di questo e maggiori garanzie per quanto riguarda lo stato di diritto e allo stesso tempo insomma la regione dovrebbe prendere coscienza di quelle che poi sono le interdipendenze economiche e politiche che si sono consolidate a maggior ragione in questo periodo di pandemia però insomma dall'altro lato si può apprezzare che di fatto le forze centrifughe non hanno avuto la meglio ma che sono state anzi incanalate in un sistema istituzionale anche se sono state fuori aere di un certo immobilismo secondo alcuni questo immobilismo potenziale comunque è una forma di stabilità e che tuttavia non c'è l'assetto di uno stato che è tenuto in piedi da un sistema di pesi e contrappesi comunque mosso dall'esterno da attori esterni che negli ultimi anni cominciano a guardare sempre meno alla Bosnia e la domanda è perché l'Unione Europea dovrebbe ancora o comunque con rinnovata coerenza interessarsi alla Bosnia e Hercegovina un po' perché la Bosnia non ha esaurito la sua funzione geostrategica quindi è ancora il cardine della stabilità regionale ed è vero che la stabilità regionale è stata insidiata negli anni 90 del 900 da lotta intestina ma continua a essere insidiata dall'emergere di nuovi attori che non sono più acquiescenti e quindi rivendicano un ruolo per progressi storici motivazioni economiche nella regione e quindi penso alla Turchia alla Russia alla Cina ma anche ad attori non statuali come i foreign fighters dell'ISIS che fondamentalmente usano il territorio come rifugio o per il traffico di insomma di beni illegali per concludere ovviamente 2020 o comunque i ultimi anni del 2000 non sono per nulla paragonabili agli anni 90 del 900 c'è un sistema internazionale mutato gli Stati Uniti insomma non sembrano si sono ritirati o comunque non sono così disposti a trasformare non hanno la volontà di trasformare il loro potere di intervenire in tutte le aree in maniera decisiva e nonostante ovviamente c'è una rinnovata speranza con l'elezione di Biden che è una figura storicamente condessa alla Bosnia ed è stata infatti ben come dire ben accettata dalla parte bosnia mentre la fazione serba sia detta pronta uno scontro che spera di risolvere in maniera diplomatica non da ultimo la regione potrebbe continuare a essere l'ultimo teatro di scontro tra la Nato e la Russia per cui in questo scenario mutato ma in cui l'importanza strategica rimane l'Unione Europea che è l'attore regionale dovrebbe ritrovare una una volontà politica per per ingaggiare la Bosnia perché non farlo comporterebbe costi più alti insomma nel lungo periodo io a questo punto mi tazzo per il momento grazie mille grazie mille Elisa grazie per il prezioso intervento e bene adesso darei la parola a Letizia Storchi che ci parlerà scusate un po' più del del versante serbo quindi della questione della Repubblica di Serska e delle relazioni tra la Serbia e la Bosnia prego Letizia sì riprendo un po' quello che ha detto Elisa riguardo il superamento delle divisioni etniche interne alla Bosnia per dire che è un superamento che tutta la comunità internazionale auspica e spera ma che in realtà le stesse popoli costituenti se possiamo definirli in quest'altra maniera non riconoscono completamente facendo un piccolo passo indietro cioè al 1998 in cui Milo Ravdodic ha diciamo fondato la sua alleanza degli indipendentisti socialdemocratici proprio in netta contrapposizione allo storico partito partito democratico serbo di Karadzic Dodi che è riuscito a condensare e a dare una voce ulteriore a tutta la la spinta indipendentista e autonomista della Repubblica Serbsca e il potere del suo partito è cresciuto nel corso degli anni non è diminuito cosa che in realtà un pochino l'Unione Europea stessa sperava una forma di omogeneità delle popolazioni interne non è successo e per questo motivo Dodi nel corso della sua lunga carriera adesso è il membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia e Zegovina ha invocato più di 43 volte un referendum per la secessione della Repubblica Serbsca quindi in realtà i problemi non sono solo esterni ma sono soprattutto interni per questo motivo sono tra i tanti referendum io vorrei ricordarne in realtà tre di cui soltanto uno è stato portato a termine quello del 2016 su cui Dodi che il suo partito l'SNSD ha puntato 2011 in cui la Repubblica Serbsca gli veniva chiesta alla popolazione se volessero appunto seccedere dalla Bosnia in quanto tale e annettersi alla Serbia senza aver consultato in questo senso la Serbia e questo era stato tentativo di referenza è stato portato avanti in seguito alle autoproclamate indipendenze di Serbia e Montenegro qualche anno prima nel 2006 2008 ma non ha avuto seguito l'unico referendum che ha avuto seguito è degno di rilevanza anche internazionale appunto quello del 2016 per la festa nazionale del 9 gennaio la festa nazionale del 9 gennaio ha un duplice aspetto sia perché ricorre il Santo Stefano la festa di Santo Stefano secondo il calendario ortodosso seguito appunto dalla Serbia sia perché è l'anniversario della proclamazione unilaterale nel 1992 della Repubblica di Bosnia e Herzegovina alla vigilia della guerra quindi il fatto che la stessa corte costituzionale bosnia abbia rigettato assolutamente questo referendum fa capire anche l'importanza che questo che questo aspetto culturale che non era semplicemente culturale o storico poteva avere che impatto poteva avere sulla Bosnia e la stessa ufficio dell'alto rappresentante internazionale l'ha definito non come una ricorrenza ma come una sfida diretta al sistema giudiziario statale perché ricordiamo che uno dei temi principali su cui fa leva l'SNSD è appunto l'indipendenza dal giudiziario dalla corte costituzionale bosniaca e le relazioni con la Serbia tuttavia per quanto riguarda il primo aspetto non vi è alcuna legittimità che i tribunali della repubblica serbsca siano indipendenti dalla corte costituzionale bosniaca mentre il secondo aspetto le relazioni con la Serbia in realtà sono più che lecite perché è proprio scritto nella costituzione che le singole entità che sono puramente amministrative non sono territoriali non sono territoriali sono amministrative possono avere delle relazioni speciali autonome indipendenti con i paesi confinanti quindi tutta questa retorica indipendentista secessinista viene usata proprio per fini nazionalistici per quanto riguarda invece le relazioni tra i due paesi tra Bosnia e Serbia possiamo definirli altalenanti rimangono rimangono delle questioni aperte per la definizione del confine lungo il fiume Drina in un'area di circa 40 km però in cui vi sono delle centrali idroelettriche in territorio bosnia bosniaco ma sono di proprietà serba così come un tratto di una ferrovia serba passa in territorio bosniaco e la questione è del Kosovo che è ritornata più volte non solo nelle relazioni Serbia Kosovo con l'intervento degli Stati Uniti degli ultimi mesi ma proprio per il fatto che Serbia e Bosnia sono gli unici due paesi di tutta l'area che al momento non riconoscono il Kosovo e la Bosnia non lo riconosce non per volere popolare ma perché la Milorad Dodik ha posto il veto sulla questione quindi non è proprio non deve essere all'ordine del giorno per i rappresentanti della Repubblica serapista sul piano economico commerciale invece troviamo una certa apertura che si è che si è andata instaurando nel corso del tempo con diversi meeting uno a Mostar nel 2018 Sarajevo e infine entrambi i paesi hanno partecipato alla Southern European Cooperation Process a Sofia nel 2020 pochi giorni fa e anche un mese fa in cui hanno hanno dato un'ulteriore spinta all'apertura di un mercato comune in tutta l'area quindi a questo punto mi taccio un po' grazie mille grazie mille Letizia brava anche per la pronuncia nella parola serbsca perché ho ancora difficoltà e niente poi c'ha allora credo che ci abbia già raggiunto finalmente il professor Kartini non so se mi sente al quale cederei volentieri la parola per fare un po' un salto indietro nel tempo del conflitto bosniaco e i vari fattori di cleavage sì sì grazie grazie carissimo mi dispiace essere intervenuto a pezzi per poter seguire invece un dibattito che ho trovato estremamente interessante soprattutto anche in questi ultimi interventi in cui vedo dei giovani ricercatrici molto capaci di guardare un po' dietro le questioni se mi sentite bene io proseguo vedo che insomma stai annuendo sentiamo benissimo proprio Gabriele Natalizia professor Natalizia che è intervenuto in chat con qualche anno fa noi abbiamo con Gabriele Natalizia promosso per Aracne una collana di storia internazionale nazionalismo e geopolitica in cui il collega Giuseppe Motta ha pubblicato ha raccolto i saggi di un tavola rotonda che era a vent'anni dagli accordi di Dayton quindi diciamo sostanzialmente c'è questo recooling l'update su che cosa quanto quanti anni ancora possiamo resistere quanti anni ancora possiamo pensare che la Bosnia e Herzegovina sarà un'entità unita o in quale modo si può guardare a questa situazione ecco io credo che le suggestioni che sono state portate in evidenza dai dai giovani colleghi precedenti siano un po' il fondamento del tutto non è più non è soltanto una questione etnica però continua ad essere una questione che da un punto di vista etnico poi si articola in una serie di cleavages multipli che sono difficili da dirimere io qualche anno fa c'è un mio collega Federico Carlo Simonelli che si occupa di fiume Rieca con cui condividiamo i seminari di presso la facoltà di lettere e in cui abbiamo affrontato la questione dell'ex Jugoslavia e lui ricordava poche ore fa durante la lezione che qualche anno fa un ministro degli esseri russo quando venne chiesto ma per la Russia qual è l'approccio alla Bosnia diciamo il suo approccio alla Bosnia è anche l'elemento musulmano all'elemento bosniacco che in qualche modo rimane quello più diciamo sospeso sotto tutela internazionale di Turchia o di quello che sarebbe un'identità musulmana non araba e lui parlava diceva beh alla fine i bosniaci i bosniacchi non sono nient'altro dei convertiti allora chiaro che una risposta che vuole essere in qualche modo volutamente provocatoria di quello che è l'approccio di grandi potenze poi alla fine risulta talmente semplificante che rileva in qualche modo come la Bosnia sia stata dal 1875 1778 al centro della competizione internazionale l'interesse per la Bosnia e Herzegovina ha provocato la prima guerra mondiale il sistema versaillese e tutti gli sfasci successivi se vogliamo oggi non saprei se il disinteresse di questa di questo post-Dayton non possa creare ancora più sfasci nel senso che poi alla fine nella vita di tutti i giorni le popolazioni post-yugoslave così come le minoranze in Transilvania in Kosovo dove possiamo andare a vedere che alla fine nella vita quotidiana le persone trovano delle modalità di convivenza il problema è la canalizzazione di queste modalità di convivenza e la gestione e quindi parlare si vive bene fino a che non si parla di Kosovo si vive bene fino a che non si parla di di unitarietà e di di sovra del contesto Bosnia di Bosnia Herzegovina e quindi professore non la sentiamo più aspetta credo che si sia mutato ok adesso si per un attimo è mancata la connessione se adesso mi sentite concludendo credo che poi abbiate veramente articolato nella maniera più ampia questi tutti questi elementi io credo che è un po' un fallimento del ruolo dell'Unione Europea perché aspettare sempre gli americani da Clinton e poi a Biden per potersi interessare della Bosnia Herzegovina sapete insomma anche in tempo di Covid diciamo che non è proprio il massimo dell'esaltazione per il ruolo che l'Unione Europea può svolgere come fattore di stabilità e progresso nel contesto europeo alla fine l'Europa sudorientale è ormai abbastanza un remoto angolo del mondo i cinesi se ne interessano però molto poco tanto per dire diciamo le potenze emergenti che pensano ad altro però se ne interessano le tradizionali potenze che invece fanno di quello un ambito di competizione internazionale è chiaro che il ruolo della Turchia delle fondazioni turche delle fondazioni dei paesi arabi che fanno opera di solidarietà in questi paesi potrebbero come dire suscitare delle 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 preoccupazioni nelle elite serbe o nell'elite cattolico croate è pur vero che i musulmani di Bosnia una volta che hanno detto loro attraverso la guerra che erano musulmani cercano supporto nell'Islam la stessa cosa avviene nel Kosovo quindi come dire la competizione internazionale in aree anche inutili tra virgolette parliamo invece di aree molto importanti poi alla fine è un è un risultato inesorabile della geopolitica nella ricerca di equilibrio delle potenze quindi in questo senso credo che un engagement un ingaggio reale da parte del delle più importanti cancellerie europee se non dell'unione europea nei suoi organi più alti sarebbe quantomeno spicabile perché il covid e questa emergenza non crea soluzioni semmai aumenta i problemi a un acceleratore di conflitti per cui la Bosnia e Herzegovina che era già bloccata vi dico la verità alla fine passando in queste zone sono già isolate di per sé il fatto che abbiano chiuso le frontiere alla fine ha una differenza minore rispetto all'impatto che il covid ha in altre zone però dobbiamo anche considerare che chiudere la Bosnia e Herzegovina o il Kosso quando ci sono interi confini assolutamente permeabili non è la soluzione di questi problemi ma è un rimandare sine die invece la realtà nell'affrontare queste problematiche che vanno affrontate attraverso molta sensibilità ma soprattutto con il coinvolgimento delle popolazioni e delle comunità locali attraverso l'elite per concludere quello che dicevamo oggi a lezione oggi le tre comunità se non più comunità della Bosnia vivono in teoria in uno stesso stato in pratica imparano una storia assolutamente differente delle loro stesse popolazioni i serbi imparano la storia serba i musulmani imparano la storia bosniaca bosniacca e i croati i cattolici imparano la storia croata e questo era il problema della Jugoslavia fino a che funzionava Jugoslavia di titolo il socialismo il collante era quello crollato quel collante è chiaro che vivere tra pensate alle problematiche che ci sono in Romania quando vogliono insegnare agli ungheresi a festeggiare il primo dicembre e quelli lo mettono come o il trianon e lo mettono come giornata di lutto però mentre quello per due giorni l'anno si guardano male però per il resto fanno business il problema dei bosniaci è che non condividono praticamente nulla del resto i cittadini bosniaci ci sono stati tentativi interessanti dei giovani delle nuove generazioni che hanno provato a condividere momenti di aula per potersi confrontare ma non sono andati a finire bene perché poi alla fine la divisione delle aule delle lingue delle comunità è stata poi la vera rivendicazione da parte delle elite delle classi dirigenti quindi sicuramente un update su Dayton è quello di riprendere in mano tutto non aspettare che ci sia un collasso totale attraverso questo comunque grazie per la possibilità di intervenire scusate la mia come dire mancanza di continuità nel seguirvi e complimenti ancora a coloro che sono intervenuti prima di me per il loro impegno e la conoscenza di queste questioni particolarmente complesse grazie ad Alessandro Savini per il suo impegno nell'intervento nel gestire questo incontro molto interessante grazie mille professore grazie mille a lei grazie per l'intervento io direi che possiamo aprire lo spazio poi vi daremo la possibilità di parlare per alzare la mano se non sbaglio destra dal vostro dispositivo computer o telefono ci dovrebbe essere un tasto con scritto raise hand oppure se siete da computer cliccate alt più y e si dovrebbe alzare la mano nel frattempo abbiamo due domande in chat e poi se possibile ne vorrei fare anche io due soprattutto al generale al colonnello insomma intanto adesso leggiamo quelli che abbiamo in chat poi se possibile le faccio anche io due a loro allora la prima domanda non so come vogliamo fare vogliamo raccoglierle un paio oppure rispondiamo una volta per uno come volete fare voi come ma se il signor colonnello è d'accordo io sarei dell'idea di rispondere a ogni domanda per volta se non rischiamo di accavallare le cose e di non capirci direi di fare così e mi perdoni Alessandro però noto anche un'osservazione di Gabriele Natelizia che ci chiede a tutti un piccolo approfondimento su come l'impegno della Nato in Bosnia abbia influenzato il concetto strategico del 99 stavo giusto per leggergliela appunto quindi questa sarebbe la prima domanda alla quale io e il colonnello De Magistris dobbiamo rispondere esatto bene ok perfetto allora prego se volete rispondere insomma come l'impegno della Nato in Bosnia ha influenzato il concetto strategico del 99 ce lo chiede il nostro coordinatore Gabriele Natelizia benissimo allora col permesso del signor colonnello io darei darei una risposta immediata bruciante cominciamo col dire una cosa che le discussioni del concetto strategico del 99 avvengono in piena crisi kossovara questa è la prima considerazione il concetto strategico viene approvato nella tarda primavera del 99 quando la Nato è impegolata fino ai capelli è impicciata fino ai capelli con la crisi kossovara crisi kossovara che come sappiamo mette a dura prova le strutture decisionali dell'alleanza atlantica perché perché a fronte di una crisi umanitaria di grandi proporzioni che oltretutto viene amplificata da una copertura mediatica direi quasi unilaterale vi sono tutte le difficoltà di un intervento che invece è unilaterale perché perché non vi è coesione nella comunità internazionale sul datarsi perché vi è il gioco doppio triplo quadruplo della Russia in quel particolare contesto di appoggio alla Serbia perché vi è un'esigenza di intervento che però non è condivisa da tutti gli alleati perché vi sono le pressioni di un sacchiurco il generale Clark che il colonnello Magistris ha evocato che vede le cose in un certo modo mentre a livello politico le cose vengono viste in altro modo quindi è un atto messa a dura prova nel momento però nonostante questo esce con un concetto strategico che riflette direttamente riflette direttamente il mutato quadro geostrategico riflette direttamente secondo me le elezioni della Bosnia perché che cosa dice la Nato la Nato dice che oltre ad essere un provider di sicurezza sul continente europeo quindi un provider di sicurezza collettiva la Nato deve diventare anche un provider di stabilità internazionale in questo senso vi è una è una dicotomia rispetto al passato vi è un grosso passo avanti è la Nato che in qualche modo si reinventa e perché si reinventa perché come abbiamo già detto it's out of area or out of business nel senso che la Nato prende atto del fatto che vi è dopo la fine della guerra fredda una grande domanda di stabilità internazionale prende atto del fatto che questa stabilità internazionale può essere assicurata soltanto dall'intervento anche con strumenti militari e quindi si fa in qualche modo parte dirigente io la vedo così insomma è un momento di cambiamento cambiamento che tra l'altro risente anche però del particolare momento che l'Alleanza sta vivendo dopo il trionfo della Bosnia adesso sono alle prese con questa specie di incubo del Kosovo dal quale usciranno di lì a poco tra l'altro con con un intervento estremamente determinato perché se non è quando quando si discute del concetto strategico se non è il momento dell'intervento aereo contro la Serbia poco ci manca insomma i giorni sono quelli quindi è un momento topico ecco prego signor colonnello mi scusi se l'ho portato via la scena oh signor generale la prego perché siamo in modo accademico quindi è un think tank virtual e sì lo shift è quello come dicevo prima si passa dalle dalle articolo cristallizzate proprio in questo concetto strategico e poi andranno vengono portate avanti fino all'ultimo la dichiarazione di Londra del 6 dicembre del 2019 ovvero il progetto progetti instabiliti che è uno degli altri pillar adesso la Nato si muove sull'article five operations non l'article five operations che sono le crisis response operations e progetti instabiliti che tutto quello che la Nato cerca di fare è per fare la capacity billing ora piuttosto che farla dopo nel security sector reform che bene ha individuato il dottor Lioi che viene a implementarsi nella fase post-confort quindi lo shift è quello passiamo dalla guerra fredda applichiamo più l'articolo 5 e facciamo le crisis response operations e qui in Kosovo è tuttora valida questo e come bene anche citava il professor Kartini il Kosovo è ancora un po' un po' più un po' più particolare forse io lo definirei anche un po' più delicata la situazione in Kosovo perché il Kosovo è un po' la culla di tutti i foreign fighters i retornis soprattutto ci sono grossissimi problemi con l'estremismo in Kosovo molto più che nella Bosnia quindi questo è un voler da parte dell'Alleanza un voler continuare a guardare e con questo appunto nel 99 lo cristallizza a guardare con strumenti a del drum war quindi proprio piuttosto che solo dello strumento militare ma con strumenti diversi alla sicurezza dei suoi paesi perché tutto questo si va a riflettere comunque a favore dei paesi dell'Alleanza e in questo in Kosovo la Multinationals Specialized Unit la MSU che tuttora opera in tutto questo lo strumento della MSU diventa fondamentale diventa di grande successo e viene chiesto tantissimo e viene poi viene anche in Albania e poi successivamente viene utilizzato anche in Iraq in la Coalition of Wheeling diventa uno strumento usuale quindi una cosa a cui l'Alleanza ricorre frequentemente proprio perché vuole riempire questo vuoto capacitivo vuole bridge security gap che altrimenti nessuno può riempire grazie perfetto grazie mille al generale e al colonnello abbiamo un messaggio da parte di Lorenzo Termine che fa i complimenti a tutti i relatori e ringrazio al generale Cuzzelli per l'usuale precisione e chiarezza di esposizione e anche il professor Carteni per la riflessione interessante io prima di passare alle domande dei partecipanti avrei due domande una per il colonnello e una per il generale allora la prima per il generale le volevo chiedere che come gli anni 90 eccetto la guerra del golfo diciamo che è stata sicuramente una vittoria americana ma anche dell'ONU sono un po' degli anni all'insegno del ridimensionamento scusi del multilateralismo da parte degli Stati Uniti e del ruolo delle Nazioni Unite come abbiamo visto anche in Somalia in Rwanda come ha citato prima anche lei dove spesso hanno assunto un ruolo ambiguo se così si può definire stessa cosa poi è successa anche in Bosnia quando la Nato intervenne con l'operazione a Light Force senza poi un vero avallo dell'ONU secondo lei io le vorrei chiedere perché c'è stato tale ridimensionamento e perché cos'è cambiato dalla guerra del golfo in poi e invece la domanda per il colonnello in realtà più che una domanda è una curiosità negli ultimi giorni ho visto che è stato pubblicato dal magazine del Coespu un suo contributo e volevo saperne di più visto che non ho avuto ancora la possibilità di leggere e insomma volevo sapere il nuovo modello di P-Skipping che deve avere un P-Skipper moderno insomma riguardo a quello che ha scritto lei sul magazine grazie non so chi vuole andare prima insomma si ha dei due due il Ministro di Courtesy applies prima il generale troppo gentile no anche perché diciamocela tutta la mia tra l'altro ho letto il suo articolo io invece su Coespu Magazine ho letto il suo articolo sui P-Skippers e devo dire che l'ho trovato particolarmente to the point tra l'altro io faccio parte del comitato scientifico del Coespu quindi il suo articolo tra virgolette l'ho letto in antiprima ma ci ho detto la domanda che il buon Alessandro Savini mi ha rivolto è una di quelle domande che sia lo studioso sia il professionista non vorrebbero mai sentirsi rivolgere nel senso che mi dici beh il golfo è stato il trionfo della supremazia assoluta degli Stati Uniti ultima superpotenza rimasta sul pianeta una coalizione internazionale che in nome del ripristino dei principi del diritto internazionale interviene e diciamo ristabilisce l'ordine compromesso e per di più punisce il cattivo ma non lo punisce del tutto perché noi sappiamo che George Bush è così intelligente George Bush padre è così intelligente da mantenere Saddam al potere quale fattore di stabilità dell'area un attacco di intelligenza pura che in qualche modo sfugge al figlio ma questo è un altro discorso come sappiamo ma il punto è questo perché vi è questo ridimensionamento delle operazioni internazionali perché dopo il successo travolgente della coalizione del 91 di Desert Shield prima Desert Storm poi vi è una specie di collasso dell'intervento vi è una specie di collasso dell'intervento per il semplice motivo che i principi informatori degli interventi a mio avviso sono completamente diversi e questo è il punto fondamentale l'intervento del Golfo del 91 è un intervento cinetico nel quale si sfruttano le dottrine e le tecnologie studiate a suo tempo per la guerra la Freda in cui in nome del ripristino dell'ordine internazionale le Nazioni Unite autorizzano un'operazione capitolo settimo punto e peace enforcement a tutti gli effetti sono quelle famose misure adottate dal Consiglio di sicurezza nell'ambito del Capo Settimo per il ripristino della pace e della stabilità internazionale punto e quindi a quel punto la coalizione a guida statunitense anche questa è un'espressione diretta dello Statuto delle Nazioni Unite questa coalizione a guida statunitense interviene con tutta la potenza delle famose forze terrestri navali aeree messe a disposizione delle Nazioni Unite punto si fa la guerra per ristabilire la pace in buona sostanza quello del 91 è un intervento che in tutto e per tutto dal punto di vista del diritto internazionale questo me lo insegnate voi che siete studiosi di queste cose è un intervento che in tutto e per tutto ricalca quello della Corea del 50-53 fine una coalizione sotto egida del Consiglio di sicurezza guidata da una nazione leader che ripensina l'ordine della sicurezza internazionale punto le missioni successive quindi le missioni degli anni 90 alle quali lei fa riferimento e in particolare i clamorosi fallimenti che sono nell'ordine la Bosnia la Somalia e Ruanda sono operazioni ben diverse sono operazioni nelle quali intanto manca un consenso fondamentale cioè manca il consenso complessivo della comunità internazionale uno due sono operazioni non sotto capitolo settimo ma sotto capitolo stesto questa è la prima considerazione da fare ovvero sono operazioni sotto quel capitolo sei e mezzo perché il peacekeeping non esiste nella carta dell'ONU esiste questo capitolo sei e mezzo nella definizione della fine degli anni cinquanta di Doug Hammanskjold va bene che fa sì che le forze dell'ONU intervengano leggermente oltre le misure pacifiche del capitolo sesto ma intervengano con il consenso delle parti eccetera in sostanza è come avere una pallotola spuntata in buona sostanza si interviene ma si interviene soltanto se vi è il consenso eccetera eccetera e il risultato è che queste forze vengono schierate e mi sembra di averlo dimostrato chiaramente con la mia fin troppo esagerata descrizione di quello che è successo in Bosnia queste forze vengono schierate con un mandato insufficiente con delle premesse giuridiche insufficienti con delle possibilità di impiego dalle forze assolutamente insufficienti alla bisogna il risultato è sotto gli occhi di tutti la Somalia laddove non si riesce ad agire come si vorrebbe noi italiani per primi il colonnello De Magistris me ne sarà testimone noi italiani per primi andiamo a soffrire di questa situazione terribile in cui sostanzialmente non siamo in grado di difendereci tant'è vero che pur di non soggiacere a questi diktat delle Nazioni Unite lasceremo la città di Mogadiscio lasceremo la città di Mogadiscio come sappiamo e andremo in provincia e ci ritaglieremo un settore autonomo nell'ambito della missione pur di poter gestire la situazione come vogliamo noi senza avere la giacchetta costantemente tirata in una direzione o nell'altra e questa è la Somalia e Rwanda poi è il paradigma della rovina il paradigma della catastrofe la Bosnia in questo senso fa assolutamente eccezione la Bosnia è una situazione in cui ho torto collo le Nazioni Unite vengono costrette dagli Stati Uniti perché se non c'è la presidenza Clinton non si va da nessuna parte in buona sostanza vengono costrette dagli Stati Uniti ad assumere un atteggiamento più fermo la realtà è che se non fosse la Nato con il suo consenso a in qualche modo fornire il backbone la spina dorsale dell'intervento di nuovo le Nazioni Unite non andrebbero da nessuna parte l'intervento del Kosovo poi è l'epittome di questo perché nonostante tutte le elezioni nonostante tutte le discussioni nonostante tutti gli strappamenti di capelli e le lacrime versate nel 99 con le Nazioni Unite siamo da capo a 12 tant'è vero che la Nato che unilateralmente interviene e la sanzione delle Nazioni Unite come sappiamo interviene ex post da cui poi il discorso di Brahimi il rapporto Brahimi del 2000 quello citato dal colonnello De Magistris dove Brahimi molto onestamente fa autocritiche dice ragazzi abbiamo fallito e sì però si va avanti così perché in realtà non è che le cose dopo cambino in modo drastico in modo drammatico sì vi è una revisione dei mandati sicuramente si passa progressivamente dal peacekeeping al peace enforcement e via di seguito i mandati diventano più robusti però dobbiamo aspettare il 2010 il 2012 dobbiamo aspettare questo scorcio di di ventunesimo secolo per vedere le operazioni ONU diventare un pochino più più solide più incisive grazie grazie mille generale chiarissimo se mi permette se siete così efficaci comunque purtroppo l'ONU ha bisogno della grossa modifica scusi professor Salvini mi sono mi sono permesso di intervenire no prego si figuri si figuri assolutamente visto dopo ho il suo microfono acceso l'ONU ha bisogno della grande modifica io ho avuto il privilegio anche di lavorarci per due anni alla polis di Ligio è l'iniziativa dell'Italia che sta portando seco una sessantina di paesi per riformare il consiglio di sicurezza X volumes che comunque il consiglio di sicurezza fa troppo interesse del consiglio di sicurezza però io su questo non devo entrare anche perché porto un uniforme e quindi rimaniamo così la politica estera italiana non è il mio compito di giudicarla io devo eseguire degli ordini e quindi questo lo devo fare però è un dato di fatto tante critiche che vengono vengono rivolte al palazzo di vetro devo dire avendolo visto anche come funziona dentro non sono così infondate l'articolo l'articolo il titolo è un po' misleading perché il peacekeeper che vado io lì a definire è quello che fa stabiliti policing ma il problema grosso e il genere l'ha appena accennato è proprio quello è che l'approccio è sempre quello prettamente militare quello noi andiamo a cercare un avversario ma noi questo avversario lo vediamo solamente in un in un partito contrapposto ma il criminale non è sempre un partito contrapposto torniamo ai criminalized power structure torniamo alla situazione no a queste entità che si muovono in Bosnia sono le stesse che si trovano in qualsiasi altro paese e non le possiamo andare a frenare con il solito carro armato con l'uomo in torretta abbiamo bisogno di ascoltare la popolazione abbiamo bisogno di scendere dal carro armato tolgerci gli occhiali al sole e parlare con il cittadino per accogliere le vere informazioni e allora l'alleanza se ne sta accorgendo grazie anche al grosso sforzo che facciamo che fa lo stability policing la comunità di interesse stabiliti policing però usando un'espressione francese io in francese sono zero quindi l'altra lungo in italiano l'organizzazione internazionale hanno bisogno anche del soldato della legge che il gendarme in persona quindi hanno bisogno anche di qualcuno che vada a riempire questo maledetto vuoto capacitivo io ho prestato servizio un po' in tutta Italia Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria Rimini tutto ovunque non ci fosse una presenza dello Stato con le forze di polizia all'Ocri penso zona stupenda la Spromonte io ho comandato un gruppo carabinieri che però è dimenticata dallo Stato troppe volte a partire dalla politica lì se non si riempie il vuoto capacitivo se qualcuno mi ruba il motorino io vado a fare la denuncia ai carabinieri o se sono in Afghanistan vado alla stazione di polizia che spesso è un checkpoint a 50 km via a casa mia perché così purtroppo anche quello dell'Afghanistan è un altro problema se invece non c'è la forza di polizia vicino io vado dal local chieftain o noi in italiano lo chiamiamo dal bullo del quartiere mi ritrovi il motorino sì dammi 500 euro che si chiama cavallo di ritorno e lì lo Stato ha perso lo stesso discorso si applica nel paese destabilizzato anzi nel paese fragile nel paese fragile la situazione è ancora peggio è veramente peggiore quindi anche le necessità quotidiane non vengono rispettate non vengono soddisfatte allora se io ho bisogno anche solo di andare a fare il bucato al fiume senza che nessuno mi fermi per strada e mi stupri ci sono posti dove l'acqua bisogna andare a prendere la sorgente o nei pressi del fiume e se questo lo fanno le donne o le bambine devono essere per forza intercettate da qualche maledetto che mette la tassa o anche quando vanno a raccogliere gli aiuti umanitari la distribuzione viene fatta dai soliti maledetti che invece che dare il cibo gratis pretendono altre cose in cambio e se nessuno ha un oversight su questo allora noi perdiamo questa benedetta battle of narratives che l'alleanza perde troppo spesso e allora lo strumento del peacekeeper che la vengo a descrivere e poi che vado a resumere nel soldier dell'OA se non sbaglio del soldato della legge è proprio quello la descrizione dello stability policing officer quello che andiamo a fare noi con le varie attività che possiamo fare nello stability policing lo specchio è ampissimo e andiamo a vedere tutto quello che non è war che non è guerra scusatemi pensate alla human security children in armed conflict gender based violence cultural property protection in cui l'arma tra l'altro è leader l'arma dei carabinieri siamo anche leader nel United for Heritage siamo partner del Nesco però non guardiamo solo come carabinieri ma guardiamo come strumento di stability policing human being trafficking che non è il barcone che vediamo arrivare a Lampedusa è tutto quello che viene dopo quello che arriva anche una volta che arriva nei nostri paesi pensate alla Nato che deve costruire una base in the middle of nowhere in Afghanistan e invece che prende gli afghani della zona prende i migrati pakistani che vanno a lavorare ma magari lavorano in nero non lavorano con le sicurezze necessarie anche lì andiamo a perdere la battle of none quindi è un approccio di polizia nel paese destabilizzato nel paese che deve essere ricostruito ma se non viene a riempire sono ridondante fino alla noia lo so questo vuoto capacitivo dall'inizio non parte il security sector reform perché uno dei pilastri è proprio quello lo stability policing security force assistance che si occupa della ricostruzione delle forze militari e poi c'è DDR ma questi sono i pilastri ma se io non garantisco the rule of law e non solo ma anche law and order quindi rule of law le tre C no COPS correction and codes se non garantisco questo e COPS è uno di questi tre pilla questo in soldoni è un sbaglio di articolo allora l'ho scritto diverso tempo fa l'hanno pubblicato da poco ma l'ho scritto grazie mille grazie mille colonnello grazie mille per la sua chiarezza generale lei ha alzato la mano non so se voleva intervenire prego sì vorrei intervenire solo per confermare intanto abbasso la manina che bello questa cosa elettronica che uno alza e abbassa le manine mi fa impazzire intervenire in un certo senso molto rapidamente per confermare quello che ha detto il colonnello De Magistris e per lanciare a questa platea che ci sta ascoltando una quella che in realtà è una provocazione il mio dubbio il mio sospetto sulla base anche delle operazioni diciamo di intervento internazionale alle quali ho partecipato segnatamente nei Balcani in Afghanistan il mio sospetto è che qui noi pretendiamo in qualche modo che la NATO si faccia carico ovvero che l'organizzazione militare ovvero che lo strumento militare si faccia carico di responsabilità e di conseguenza di capacità che in realtà non gli appartengono mi spiego meglio nel momento in cui io mi trovo a dover bridge the gap ad esempio con uno strumento militare che come dice giustamente il colonnello De Magistris non è adatto a quel compito io in realtà pretendo dalla NATO un qualcosa che con la NATO non ha assolutamente niente a che fare allora un conto è il discorso out of area or out of business che io posso anche capire un altro conto è quello di assumersi compiti al di là dell'articolo 5 quindi al di là della difesa collettiva o al di là dell'intervento militare che invece secondo me all'Alleanza Atlantica non appartengono allora qua noi dobbiamo porci una domanda molto semplice perché è la NATO costretta ad intervenire per un motivo molto semplice perché altrimenti non lo fa nessuno perché l'ONU e torniamo a quel discorso della riforma del Consiglio di Sicurezza di quel che evocava il colonnello De Magistris perché l'ONU non lo fa e l'Unione Europea perché non lo fa è santo cielo ma se noi guardiamo l'esperienza della Bosnia e qui la dottoressa Storchi e la dottoressa Brusca sono state chiarissime quanto ci ha messo l'Unione Europea ad intervenire e comunque sia il suo intervento è avvenuto solo dopo che la NATO che è subentrata la NATO in sostanza dopo che la situazione è stata stabilizzata allora qua qui dobbiamo capirci bene a che cosa serve la NATO? Beh la NATO è un'organizzazione militare finiamola con questa storia del comprehensive approach finiamola con questa storia del soldato che deve fare tutto non è così il soldato deve fare il soldato allora il soldato ristabilisce condizioni minime di sicurezza entro le quali le organizzazioni internazionali specializzate sono poi in grado di svolgere la propria azione nei vari settori di competenza che vanno dal nation building al disarmo alla ricostruzione del law and order e tutto il resto ma non continuiamo a chiedere al soldato di fare un mestiere che non è il suo e qui vengo anche alla situazione afghana nel senso che in Afghanistan io vado e faccio il mio mestiere nel momento in cui ci sono i cattivi io do la caccia ai cattivi e ristabilisco condizioni minime di sicurezza ma a quel punto il mio compito è cessato deve intervenire qualcun altro il problema è che questo qualcun altro da un lato non interviene dall'altro la Nato è over eager in un certo senso di fare il mestiere in qualche modo per giustificare la propria rilevanza la propria importanza la propria la propria necessità in sostanza non so se qui è chiaro che io sto sto provocando però mi sembra un discorso estremamente concreto questo dal punto di vista di chi c'è stato tra l'altro prego Ronnello prego e poi abbiamo una domanda in chat so alzare la manina in maniera informatica non so non vorrei uscire dalla conferenza in obiettivamente voleva intervenire o leggiamo prima la domanda no volevo fare replicare al generale se mi permette ma proprio in due parole assolutamente la Nato vuole ridere la Nato vuole fare vuole fare di più la civil military interaction non esisteva dopo ad esempio no però dico adesso però la Nato vuole fare tutto ma andiamo proprio all'esempio dell'Afghanistan quello che è stato individuato anche dalla maggiore audit statunitense il CIGIRS Special Aspetto General for Iraq Reconstruction e poi dalla CIGAR come dall'altro il mio centro collabora da oltre un anno Special Aspetto General for Afghanistan Reconstruction stiamo parlando di un body di audit che lavora per il congresso americano presso il quale a gennaio febbraio prossimo dovremo presentare anche i nostri i nostri findings e quello è un grosso problema cioè nessuno si accorge di riempire il voto capacitivo del rule of law e loro dicono in una estrema sintesi call the police ognuno deve fare il suo noi lo possiamo fare sotto egida sia Nato sia Unione Europea sia sotto egida dei militari sia sotto egida dei civili tant'è che la Bosnia ha fatto dopo il re-acting exercise dove la MSU ha cambiato basco cambiato bracciale è iniziato a parlare in europeo piuttosto che col dialetto dell'alleanza e ha cambiato il capo della missione quindi è capace di lavorare sia sotto cateca armando controllo militare sia civile il problema è proprio quello che la Nato fa il lavoro dovrebbe fare l'ONU l'ONU ha un approccio secondo me anche più specialistico con i vari pillar il pilastro militare correction rule of law e di polizia invece la Nato non ce l'ha perché è prettamente militare ma deve per forza farlo perché ci sono tutte anche le minacce le cosiddette asymmetric threat tutto quello human security che descrivevo o i cross-cutting topics che sono quelli che vanno poi a stabilizzare un paese ma se non fanno gli altri il virtual job lo deve fare per fornato e questo proprio come citavo prima la dichiarazione di Londra del 2019 porta a quello ma andiamo al 2016 con progetti instabiti che fanno a Varsavia e lì proprio la dichiarazione di intenti per e propria vogliamo fare tutto perché tanto ci tocca fare lo stesso scusate grazie mille colonnello e allora abbiamo una domanda per il generale e per il colonnello da parte del dottor Lorenzo Termine allora ve la leggo per la vostra per la vostra esperienza pensate che le operazioni in Jugoslavia abbiano costituito in qualche modo il turning point nella percezione occidentale e mi riferisco in particolare a Stati Uniti Europa in secondo luogo della Russia ah in secondo luogo della Russia si inclinò in qualche modo l'immagine della Russia convertibile al liberalismo grazie Giugia è sempre lei lì anche fa il professore io faccio no la prego non parlo neanche di politica io ho un'idea io ho un'idea ce l'ho eh un'idea io ho un'idea ce l'ho però stiamo parlando di due Russia eh profondamente diverse in realtà eh tra tra la Bosnia e il Kosovo passano tre anni quattro anni quanto passa però eh le due russie sono due russie diverse nel senso che la Russia del novanta tre novanta quattro novanta cinque e la Russia yeltsiniana in crisi profondissima in cui la la federazione in qualche modo non ha ancora ristabilito l'unità di comando o l'unità di governo negli anni della Bosnia eh succedono anche le insurrezioni eh negli anni della Bosnia Yeltsin prende a canonate i deputati eh i deputati insorti eh negli anni della Bosnia la Russia fa una politica eh sostanzialmente filoserba ma è anche la Russia yeltsiniana che collabora con l'Occidente perché ha bisogno dell'Occidente perché sotto schiaffo delle istituzioni occidentali in particolare delle istituzioni finanziarie occidentali quindi è una Russia che collabora è una Russia che schiera delle forze in Bosnia e la Russia che interviene attivamente nel conflitto bosniaco al punto da schierare addirittura ripeto delle unità quindi è una Russia che in qualche modo eh fa parte del eh contesto internazionale eh in realtà ne fa parte abbastanza obtortocollo nel senso che entra nel gioco della Bosnia essenzialmente per cercare di sostenere le ragioni dei serbi di Bosnia e della della Serbia in in linea generale nel contesto internazionale quanto ci riesca eh secondo me è abbastanza da dimostrare mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il professor Cartenini questo ma al di là di questo la situazione del Kosovo invece è una situazione radicalmente diversa rispetto alla Bosnia se in Bosnia la Russia in qualche modo collabora perché è costretta dalla situazione a collaborare optortocollo con il Kosovo la situazione è completamente diversa con il Kosovo la Russia si vuole fare protagonista e quando viene in qualche modo esclusa dal gioco come sappiamo interviene con una mossa azzardatissima che è quel tentativo di occupazione del dell'aeroporto di Pristina per cercare di rientrare a tutti i costi nel gioco e non accetta assolutamente il fatto che la Serbia in qualche modo venga punita ma assume come sappiamo in sede internazionale una posizione fortemente ostativa da un lato e dall'altra continua a condurre fino all'ultimo momento utile una mediazione che poi come sappiamo non approda assolutamente da nessuna parte quindi le due le due posizioni della Russia nei confronti della situazione bosniaca della situazione kosovara sono diverse in entrambi i casi sicuramente vi è l'appoggio della parte serba da una parte si collabora dall'altra no e anzi si cerca in qualche modo di mantenere una una posizione da da protagonisti se si incrina all'immagine di una Russia convertibile al liberalismo non si incrina tanto con la Bosnia si incrina sicuramente con il Kosovo nel senso che con il Kosovo la Russia in qualche modo assume una posizione che è più vicina alle sue tradizioni una posizione se vogliamo iper realista una posizione panslava una posizione ostativa rispetto agli obiettivi della comunità internazionale però dobbiamo comunque riflettere sul fatto che la Russia del 99 non è la Russia del 94 95 96 è una Russia diversa è una Russia in cui Vladimir Putin fa già parte dell'amministrazione presidenziale ed è una Russia che è molto più assertiva di prima perché diciamo che sta cominciando a pensare di uscire dalla crisi di lì a poco di lì a poco la presidenza di Yeltsin si avvierà alla conclusione e diciamo inizierà la rinascita della federazione con la presidenza con la sotto la guida di Putin se non direttamente immediatamente ma quantomeno sotto la guida sotto la guida di Vladimir Putin quindi è una Russia diversa sono due Russia completamente diverse quelle dal Kosovo e quelle dalla Bosnia grazie mille generale grazie mille per la risposta ma mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensa il professor Carteni che è un esperto molto di più di quanto non lo sia io insomma grazie al generale per la suggestione no la verità è che invece il lavoro svolto attraverso una delle pratiche reali sul campo come diceva anche prima il colonnello dà una conoscenza molto più concreta molto spesso di quelle che sono i tavoli dell'accademia che hanno questa problematica che forse rimangono gli studiosi dietro alla scrivania sicuramente è assolutamente più importante l'elemento più importante è sicuramente quello di unire i due ambiti lo studio nel caso bosniaco forse addirittura antropologico potremmo dire nell'approccio alla problematicità multiculturale poi non è multiculturale è una produzione di identità complessa che va su altri termini no sicuramente è un sono degli elementi interessanti anche e soprattutto forse nel ruolo della Russia quando adesso il generale parlava della del cambio tra la Russia liberale l'esito liberale della Russia nella deflagrazione bosnia che poi invece l'irrigidimento la ricerca di un ripristino di un ruolo perlomeno nel caso Kosovaro forse il caso Kosovaro essendo istituzionalmente una questione di riconoscimento internazionale è forse più semplice anche nella realizzazione di una politica del genere visto che Mosca tende ad avere come dire a concretizzare le politiche con costi diciamo più bassi possibile o comunque evitando sovraesposizioni in questo senso potrei provocare dicendo che forse invece è proprio quella transizione cosiddetta liberale della Russia degli anni 90 che non riesce a giocare un ruolo uno delle con cause dello squilibrio che si crea a livello territoriale nel confronto tra dinamiche nazionali emergenti nella Bosnia e Herzegovina se vogliamo ci fosse stata vabbè però non si fa la storia con i sé però la verità è che se la Russia avesse avuto diciamo un Putin nell'esito della transizione non uno Yeltsin probabilmente anche la Bosnia avrebbe avuto un esito differente perché non ci sarebbero state una dinamica anche di responsabilizzazione eccessiva delle istituzioni occidentali nella in quello che avete ben articolato come in qualche modo una sovraesposizione della Nato che sia giusto o non sia giusto però fatto sta che quello di cui parlavo un po' eh cercavo di delineare prima era un po' che diciamo eh ormai condiviso dall'opinione pubblica internazionale chi manca è un po' l'Europa o comunque un ruolo di stabilizzatore internazionale che abbia la legittimità di intervenire in quest'area perché naturalmente eh la eh la l'ambito territoriale è qualche cosa di di preminente sicuramente il gli elementi in campo in questo senso sono ancora hanno ancora delle dinamiche che però possono proporre nuove nuove visioni e trovo molto importante eh la suggestione detta prima della del creare sicurezza sul campo in senso pratico perché appunto nella vita quotidiana forse è proprio lì che che si vede la la realtà e anche la la possibilità di avere degli esiti di queste crisi eh quindi la verità è che essendo stato nell'area eh in differenti periodi ehm trovo che probabilmente soltanto una una vera e propria eh ingaggio eh di politico strategico potrà portare a qualche conduzione altrimenti diciamo la situazione tenderà a trascinarsi un po' secondo dinamiche poi anche etero dirette però in qualche modo ehm un po' stancamente no? Poi a seconda del degli elementi che in campo possono vantare magari un finanziamento in più o un elemento in più di di contrasto stante poi il fatto che da storico dei nazionalismi sappiamo benissimo che i nazionalismi sono vengono indotti e costruiti sulla base di scontri o dell'identificazione del nemico che alimenta se stesso e quindi e quindi poi purtroppo queste dinamiche sono sempre più ricorrenti e inesorabili vado veramente rapido per il dottore Termine in Cosovo abbiamo rischiato la terza guerra mondiale che ci siamo scampata solo grazie a una bottiglia di whisky che il generale inglese Mike Jackson con K4 ha offerto al generale russo lì all'aeroporto veramente con una bottiglia di whisky questo è un aneddoto molto carino ma tra gentiluomini l'hanno risolto e poi tutto mentre Saker mentre Clark voleva proprio invece che venivano attaccati i russi dalle truppe NATO quindi c'è stata una tensione incredibile la Russia viene vista ancora come un grande nemico dalla NATO ancorché abbia il 2,93% del PIL mondiale l'Italia al 2,32% se ben ricordo mentre dovrebbe essere vista più come un gigante dei piedi di argilla cosa che ci dovrebbe far pensare un po' più alla Cina come un grande nemico della NATO e la NATO lo sta iniziando a vedere qual è il problema però di Russia e Cina e qui la butto lì poi ne parliamo magari in un'altra situazione il cosiddetto unrestricted warfare fare la guerra con altri mezzi diversi completamente da quelli della guerra l'assassination i tentativi che ci sono stati pensate alle cos'era in Inghilterra adesso era plutonio non mi ricordo quale fosse quella sostanza radioattiva utilizzata però loro fanno questo destabilizzano l'altro paese con creati e allora l'alleanza non può reagire con strumenti militari l'alleanza deve reagire a questi avere i propri attacchi con altri strumenti lo stability policing può fare la differenza il modello del peacekeeper nuovo che va a aiutare anche in una sorta di ibrida article 5 operation va a aiutare anche il paese quindi c'è un overlap anche tra la cooperazione internazionale di polizia lo stability policing può fare cooperazione internazionale di polizia quindi far intervenire anche strumenti non solo come Interpol che è molto un po' troppo vago un po' troppo ampio non solo l'Interpol ma soprattutto l'Europol che è uno strumento operativo molto efficace in ambito europeo devo dire che è una delle cose che funziona di più secondo me in ambito europeo l'Europol grazie scusate grazie a tutti